Ciao e benvenuto in questo corso Azure DevOps fondamenti. Io sono Michele, lavoro nell'ambito di DevOps da circa 10 anni. Ho lavorato per aziende italiane, internazionali, piccoli e grandi, facendo consulenza su tutti i livelli. Qui sarò la tua guida per imparare tutti quelli che sono i concetti DevOps e di Azure DevOps. DevOps è l'unione di persone, processi e strumenti per abilitare il rilascio continuo di valore ai nostri utenti finali. Primo, che cosa ti aspetta in questo corso? In questo corso vedremo proprio le basi di quelle che sono i concetti DevOps e di Azure DevOps e tanta terminologia verrà spiegata mano a mano che la incontriamo. Quindi questo corso va bene per te se sei un principiante che proprio è agli inizi e vuole sapere che cos'è questo fantastico mondo DevOps, ma va anche bene se già sai qualcosa e vuoi consolidare le tue conoscenze facendo pratica. Tre, questo corso ti può andare bene come studio e come preparazione per l'esame Microsoft AZ400 e quindi che è quello dedicato ad Azure DevOps. Iniziamo subito con il prossimo video creando la tua organizzazione di Azure DevOps che farà da laboratorio per tutto quello che impareremo in questo corso. Forza, iniziamo!